Il prossimo insieme di brani, il prossimo medley che andremo ad ascoltare è una colonna sonora che è diventato, inizialmente, un insieme di brani di un gruppo famosissimo che sono gli Alba, un gruppo svedese, che ha venduto solo 380 milioni di dischi nella loro carriera così con due, hanno fatto un sacco di riproduzioni, hanno creato un sacco di brani e l'ultimo, ovviamente, l'ultimo pezzo che voi adesso ascolterete, a meno che non ci sia un bis però questo, insomma, deve essere proprio, deve nascere proprio dal cuore, il bis, dopo e, come dicevo appunto, il gruppo degli Alba crea tutta una serie di brani famosissimi che tutti noi abbiamo ballato e ascoltato sicuramente in marevole volte allora, questo per dirvi che questo medley è sia una colonna sonora ma è anche la colonna sonora, oltre del film strepitoso con Meryl Streep anche del musical, perché anche di questo viene fatto un musical ed è tuttora uno di quelli più concedi e più visti si starà dieti, si starà dieti mamma mia, ci sarà anche il 2, la notizia di poco tempo fa e dunque speriamo di avere altri pezzi da poter poi arrangiare e suonare è l'ultimo pezzo, io sono un giro che li faccio adesso, vorrei fare dopo perché secondo me è un bisco e qualcuno lo dice, lo chiede sai che secondo me siete? Anche 2? Sperchitolo anche 2 perché chiediamo 2 stasera, perché c'è fresco tanto fuori allora, direi una maestra Roberta Fasano a Bagon grazie 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 grazie